La politica interna Cossiga concluderà domani il giro di consultazioni dei partiti per la formazione di un nuovo governo. Oggi pomeriggio ha visto De Mita che ha ribadito la posizione democristiana, prima una maggioranza poi un programma. I socialisti guidati da Craxi insistono invece sulla assoluta necessità di un programma, poi saranno disponibili per formare una maggioranza e un governo senza particolari riserve. Per i comunisti Natta ha chiesto un governo che nasca da un libero confronto, Natta non crede né alla riedizione del pentapartito né a governi transitori. La partita è comunque ancora tutta aperta, vedremo domani a chi Cossiga deciderà di affidare le sorti del nostro paese.